e questa è giordana per gli amici d'ana e nelle foto non rende proprio invece la vicina è bellissima che ha queste macchiette qui sul naso tanto buona su fiocchetto perché lei è femminuccia non sei femminuccia tu sei una bella femminuccia da una sei mesi sei mesi vero abbiamo detto che misura così ce lo ricordiamo anche dal collo al culetto misura 50 centimetri e dall'altezza è 45 che crescerà poco poco non troppo di più ha detto il veterinario è già vaccinata microcippata sverminata trattata con antiparassitario è tanto buona convive con altri cani con i gatti è vero è vero tanto buona adesso zia fiorella la coccola un pochino è la sua per ora mamma adottiva che l'ha tolta dalla strada e l'ha aiutata perché tutti la segnalavano e nessuno la raccoglieva così il figlio di fiorella l'ha presa e l'hanno accorta nonostante avessero già gatti e due cani è bella e coccolona vuole tante coccole si è proprio cara è proprio bella morbiduna fa anche bene al guinzaglio è notato sta imparando eh ah sì vogliamo provare a vedere se ci riusciamo prova 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 tu e fai finta che ce l'hai ah lo capisce dana guarda dana seduta dana niente dana è bella chi sono sono proprio bella morbida 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 ma sei tanto cara ma sei tanto cara dana è timida oggi bella pulita pulita e ho notato si appoggia sulle mani soffre un po' la macchina però vabbè è normale perchè è cucciolotta piano piano chi è chi è chi stai guardando vogliamo passeggiare un pochettino così facciamo vedere com'è brava il guinzaglio brava brava scadinsola eh sta guardando a me dietro che c'è continuando ad andare di là dove c'è tutto il sole completo vado d'accordo con i bambini anche dana dana chi c'è scadinsola guarda si è seduta ma tu sei proprio bella ma tu sei proprio bella scadinsola e giameli si si fa anche prendere in braccio lei guarda anche in braccio guarda anche in braccio ma quanto è cara oppola è bella è più bella ma tu sei questo naso così è curiosa eh di vedere in giro che c'è dana 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 chi c'è dana c'è qualche palo dietro no dana 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 ma che vuole questa che mi chiama ogni tanto e ti dobbiamo far vedere guardavi orecchie 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 di dumbo no un po' meno di dumbo forse Lei le terrà proprio alzate Tipo lupetto Dana Dana Allora vogliamo salutare tutti E gli diciamo Che tu stai cercando una mamma Stai cercando una mamma per sempre Che sei tanto buona con tutti Lo ripetiamo Cani, gatti, persone, bambini Che sei tranquilla al guinzaglio Che fai la pipì sulla traversina Che vogliamo più Sei vaccinata, sei microcippata A breve sarai anche sterilizzata Glielo diciamo Dana Dana Salutiamo Con queste macchie bellissime che c'è Salutiamo tutti Ciao Ciao Grazie.